Com'è una grande responsabilità che mi è stata affidata dai Presidenti di Senato e Camera, di cui sono molto orgoglioso, ma anche un po' il completamento di un percorso importante per la mia vita, perché io sono stato un volontario dell'Unicef, che quindi si occupava di bambini e adolescenti quando avevo 12 anni, quando ero uno studente della scuola media e quando già allora parlavamo di Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, parlavamo della capacità dei territori di fare aggregazione, di occuparsi di bambini, di adolescenti e anche e soprattutto in territori difficili, in periferie difficili. Io vivevo nella provincia di Napoli, quindi un territorio che non è che offrisse molto e mi pare che a distanza di 20 anni la situazione del nostro paese non sia molto migliorata, o meglio sono stati sanciti molti diritti, questo sì, la stessa approvazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia è stato un fatto molto importante, però se da un lato c'è stata questa affermazione dei diritti, dall'altra parte da un punto di vista proprio culturale, del sentire comune, si sono fatti secondo me dei passi indietro. E allora il garante rappresenta proprio un passo avanti invece importante per un paese, d'altra parte in Italia questa figura era stata richiesta a più voci, dagli associazioni, dagli addetti ai lavori, da tante realtà da molti anni ed eravamo anche uno dei pochi paesi europei a non avere ancora questa figura. Quindi credo che sia una cosa importante per il paese e mi auguro di poter far bene il mio lavoro, soprattutto per dimostrare che in Italia sui termini dell'infanzia si può e si deve ancora fare molto. Le mie personali aspirazioni in realtà coincidono, come è giusto che sia, con le aspirazioni della figura, del garante, non ci sono delle personali aspirazioni che possano andare al di là del vedere realizzati concretamente tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti nel nostro paese. Sicuramente tra le priorità oggi più che mai il tema della povertà è uno dei temi che dobbiamo affrontare immediatamente, perché quello che ci dice l'Istat, ma al di là dell'Istat basta girare per le nostre città e non più solo, come si diceva un tempo, per le periferie del sud, ma adesso anche tantissime città del nord, del nord sicuramente più ricco, ma con altrettanti problemi, basta girare in queste città per vedere numerosi bambini, adolescenti, famiglie che vivono in gravi difficoltà economiche, tanto da non poter a volte garantire neppure i beni di prima sopravvivenza per bambini e adolescenti. Credo che questo sia un tema oggi non più rinviabile e non è giustificabile soltanto con la crisi economica, perché sì è vero che c'è una crisi economica difficile che il nostro paese sta affrontando e saremmo anche un po' fuori dal mondo se chiedessimo solamente al governo tante maggiori risorse economiche in più, in un momento in cui sappiamo che questo non è possibile. Però per esempio è importante capire come vengono spese già le poche risorse a disposizione, per esempio a livello centrale, ma anche delle regioni e dei comuni. Un coordinamento tra tutte le realtà che si occupano di infanzia a livello governativo è fondamentale, cosa che manca, perché oggi sappiamo che gli interlocutori governativi sono almeno 5-6 tra ministri, viceministri, sottosegretari e dipartimenti vari. Quindi esiste un problema sicuramente legato alle condizioni materiali oggi dei bambini italiani che va affrontato, che va affrontato con il governo, che va affrontato nonostante la crisi e che va affrontato proprio prevedendo provvedimenti all'interno dei vari atti di questi giorni, spending review e altro, che possano consentire soprattutto a quelle famiglie in modo particolare certamente quelle che vivono al sud, che sono in difficoltà economiche reali per garantire tutti i diritti primari ai bambini e adolescenti di poter invece essere aiutate e sostenute. Il problema della frammentazione delle competenze sui temi dell'infanzia è un problema spinoso, allora sicuramente c'è da una parte un ruolo che possiamo svolgere noi come autoriti oggi di coordinamento che è fondamentale ed è quello che stiamo facendo. Noi già in questi primi mesi, pur in assenza degli strumenti ancora fondamentali per svolgere il nostro lavoro, il regolamento, i fondi, cioè tutti quegli strumenti che la legge prevede, abbiamo proprio in assenza, in attesa di quegli strumenti avviato un'azione di coordinamento di queste strutture. Ora è chiaro che noi non siamo il governo e non vogliamo assumerci i ruoli che non ci competono, quindi le competenze sono oggettivamente diverse, però l'autority nasce anche con questo compito, cioè quello di favorire è il confronto e il coordinamento tra le realtà dello Stato che si occupa di infanzia, ma anche con chi poi a livello locale opera sui territori, perché non c'è dubbio che ci sono anche modelli di welfare regione per regione molto diversi tra loro, che a volte sono determinati dalla differenza oggettiva che c'è politico, culturale, sociale sui vari territori della regione italiana che sono così diversi tra loro, ma molte volte invece c'è anche una mancanza di diffusione di buone pratiche, di esperimenti riusciti che potrebbero essere ripetuti anche in altre realtà. Allora noi come authority ci siamo posti proprio questo obiettivo, cioè quello di favorire la diffusione delle buone pratiche, di far dialogare anche soggetti che a volte non erano abituati, non sono abituati a dialogare e a confrontarsi con loro, far dialogare tra loro tutte le persone, soprattutto che si occupano nella quotidianità di bambini, perché troppo spesso i piani per l'infanzia si fanno a tavolino a livello centrale e non tengono conto di quelle che sono invece le realtà concrete e le difficoltà che tutti gli operatori invece conoscono e che affrontano quotidianamente. Ora è fuori discussione però che questo problema lo si risolverà in modo definitivo solo se, credo che questa sarà una proposta che porteremo avanti quando ci saranno le elezioni nel 2013 che rivolgeremo a tutte le forze politiche, cioè il problema andrà risolto a livello centrale, cioè con un centro di coordinamento unico a livello nazionale, che questo voglia dire un ministero, un unico dipartimento piuttosto che un'altra realtà, non spetta a noi dirlo, ma non per aggiungere un'altra struttura, ma anzi assolutamente per semplificare, perché questo vorrebbe dire ridurre enormemente il livello di frammentazione che c'è adesso e avere un centro unico di coordinamento sulle politiche dell'infanzia, anche per esempio per capire, e per sapere quanto si spende in Italia per l'infanzia. Noi non siamo in grado oggi neanche di dare questo dato, perché la frammentazione che c'è anche rispetto alla spesa è tale che non ci consente di avere un dato unico. Quindi io credo che oggi in parte questo problema lo affrontiamo anche noi come autoriti, ma credo che questo problema vada invece poi nel tempo risolto in via definitiva con un governo che però sia culturalmente pronto ad affrontare, a ritenere che questo tema sia davvero prioritario tanto da dare una risposta così precisa e concreta che è quella di un centro di coordinamento unico, che lo si voglia chiamare ministro, che lo si voglia chiamare sottosegretario, che lo si voglia chiamare dipartimento, ma che abbia poi tutte le competenze in materia di infanzia e adolescenza nel nostro paese. Il tema della partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla vita del nostro paese è un tema antico, lo dicevo anche prima quando pensavo alla mia esperienza vent'anni fa, ci sono tentativi un po' sparsi su tutto il territorio nazionale, molti di questi tentativi sono ottimi tentativi perché già coinvolgono gli adolescenti, i ragazzi in attività sociali, culturali, ma soprattutto di ascolto, cioè la necessità di farsi raccontare dai ragazzi anche le loro ambizioni, le loro aspirazioni, le loro condizioni di vita, i loro problemi, i loro disagi. L'importante è che tutto questo avvenga sempre in un clima di grande serietà e di grande rispetto per i ragazzi stessi. Difido molto invece da quelle esperienze in cui il coinvolgimento dei ragazzi è più un fatto folcloristico, è più un fatto di facciata, è più un fatto così non di sostanza ma di tentativo di far vedere che si sono in qualche modo coinvolti. Ecco, in quel caso sicuramente non è utile, così come non è utile la strumentalizzazione dei ragazzi nelle trasmissioni televisive o in alcuni casi di cronaca, soprattutto a cronaca nera, in cui li si mettono lì e li si portano agli onori della cronaca senza assolutamente avere, ripeto, nessun tipo di rispetto per la loro privacy e per i loro diritti. Quindi io credo che in generale il nostro Paese sui diritti e sul diritto in particolare alla partecipazione si siamo fatti grossi passi avanti negli ultimi anni e credo che in generale anche il nostro Paese possa essere orgoglioso su tanti aspetti, su tante leggi, su tante materie, però forse negli ultimi anni non siamo in grado anche poi di vedere quelli che sono i fenomeni nuovi. Il tema della giustizia minorile, per esempio, è uno di quei casi per il quale il nostro Paese per anni è stato considerato assolutamente all'avanguardia perché avevamo un ordinamento giustizia minorile che è stato preso poi come esempio da moltissimi altri Paesi europei. Oggi forse però invece questo ordinamento andrebbe rivisto, andrà senz'altro rivisto. Ci sono delle proposte in Parlamento che sono però differenti a volte perché proposte appunto da partiti che hanno orientamenti politici diversi, ma noi dovevamo trovare una sintesi e la sintesi la si fa pensando all'esclusivo e superiore interesse dei bambini e degli adolescenti. Quindi sicuramente noi negli anni abbiamo avuto dei traguardi importanti, però oggi non possiamo essere qui tranquilli solo perché abbiamo avuto questi traguardi importanti di cui siamo fieri, ma oggi dobbiamo pensare anche all'evoluzione dei problemi. Sempre restando nel tema della giustizia minorile, quando si è pensato all'ordinamento anni fa non si poteva immaginare quale sarebbe stata l'enorme presenza nel nostro Paese per esempio di minori stranieri, di persone di minore età stranieri che sarebbero arrivati e che sarebbero stati oggetto di situazioni di giustizia sia a livello civile che a livello penale e quindi per esempio anche sotto questo punto di vista dobbiamo cambiare, dobbiamo riformare l'ordinamento di giustizia minorile. Quindi questo come altri temi sono temi che hanno segnato un traguardo importante ma che oggi andrebbero rivisti alla luce delle necessità nuove che il nostro Paese sta affrontando. Loro sono i minori di origine straniera presenti nel nostro territorio, sono a volte più integrati di quello che noi in qualche modo consentiamo con le nostre leggi ma soprattutto con le nostre abitudini. Mi spiego meglio, sicuramente da questo punto di vista c'è soprattutto un problema culturale da affrontare perché la percezione che noi si ha dei ragazzi soprattutto stranieri presenti nel nostro Paese è una percezione purtroppo sempre più come ci dicono anche tutti i sondaggi legata a atti delinquenziali, legata a tutto ciò che è di negativo in qualche modo l'immaginario può arrivare a pensare. Senza tenere presente che si tratta per la stragrande maggioranza dei casi invece di minori già in qualche modo inseriti in realtà in contesti assolutamente positivi dove danno il loro contributo molto forte e molto positivo e però questa partecipazione spontanea, forte in qualche modo è talvolta anche ricambiata dalle nostre realtà, da tante associazioni che si occupano proprio di questi temi, non è in qualche modo suggellata anche da un ordinamento a livello nazionale che in qualche modo garantisca davvero pari diritti a tutti quanti. Quindi da questo punto di vista ancora una volta il tema importante riguarda da una parte il legislatore, il Parlamento che deve intervenire su temi così importanti e che ormai non possono essere più rinviabili in nome davvero di nulla, ma soprattutto parlare anche all'opinione pubblica, parlare anche ai nostri adolescenti, agli adolescenti italiani per diffondere sempre più proprio il valore della ricchezza, della diversità, dell'incontro tra culture, tra realtà diverse e soprattutto tra persone che si ritroveranno comunque insieme a dover affrontare i problemi del nostro paese e dell'Europa nei prossimi anni. Questo è poco ma è sicuro, noi fino a 10-15 anni fa neanche immaginavamo quanto potesse essere il nostro futuro legato inevitabilmente al futuro di interi altri paesi, lo stiamo vedendo proprio in queste ore dal punto di vista anche economico, quanto la vita del nostro paese sia legata, sia strettamente legata a quella di altri paesi e forse dovremmo renderci conto che anche la nostra vita quotidiana, la nostra vita nelle cose che facciamo tutti i giorni troverà sempre più connessioni con nuove generazioni, con paesi che si faranno sempre più vivi, che si sono fatti vivi anche nelle aree più difficili del mondo come in Africa, basta andare oggi in Africa e vedere come sia in molte aree, non in tutte, ma già in molte aree invasa per esempio dai cinesi che stanno investendo, che stanno anche per certi casi dando ricchezza ad alcuni di quei paesi, poi in altri casi dando vita a nuove forme magari di colonialismo, ma insomma questo stare insieme è di fatto qualcosa che noi non possiamo più trascurare come istituzioni, perché di fatto sta già avvenendo, perché di fatto i ragazzi adolescenti di seconda generazione sono molto più inseriti nel tessuto sociale e culturale italiano di quanto si possa immaginare. Io sul futuro dell'Italia, soprattutto sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche in generale sono ottimista, perché credo che poi storicamente, non lo dico io, ma insomma è un fatto appunto storico, ci siano dei momenti in cui si arriva a un tale livello di blocco di tutto che in qualche modo bisogna ripartire e credo che siamo ormai vicini a questo momento per l'Italia, ci siamo già in effetti, però forse siamo un paese un po' testardo da questo punto di vista, quindi dobbiamo ancora di più toccare con mano tutte le difficoltà che di fatto stiamo già vivendo e questo vale anche sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. C'è stata una miopia nell'ultimo decennio enorme rispetto a questi temi, una miopia perché si riteneva sempre di dover investire poco su questi temi, che temi importanti fossero altri, i tagli quando erano necessari, sia i governi centrodestra che di centrosinistra li hanno fatti sempre su welfare, sul sociale, sui temi legati alla famiglia, sui temi legati ai bambini e agli adolescenti, senza capire che in questo modo hanno minato alla base le prospettive di futuro di questo paese e questo a volte lo si vede anche in Italia vedendo le differenze da regione a regione, ci sono state regioni oggettivamente virtuose che hanno avuto una visione sul futuro diversa, penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna, dove hanno investito tantissimo nei servizi di prima infanzia, nei servizi di assistenza alle famiglie e oggi quelle regioni hanno oggettivamente, pur nella difficoltà della crisi economica generale, una qualità di vita per i bambini e gli adolescenti migliore rispetto ai bambini della mia regione d'origine, la Campania o di altre regioni del sud dove non si è mai pensato a investire in queste realtà o lo si faceva in modo assolutamente marginale o peggio ancora clientelare. Quindi credo che la storia ci abbia veramente dimostrato che invece l'investimento nelle politiche per l'infanzia, l'adolescenza, nelle famiglie, nei giovani non sia un fatto che riguardi alcuni governi o altri o alcune teorie politiche o altre, ma riguarda proprio il benessere di un paese nel suo complesso. Quindi io credo che siamo a una fase tale per cui adesso deve necessariamente scattare qualcosa per cui nel nostro paese bisogna ritornare a fare politica dove per la politica io intendo proprio questo, c'è la politica della costruzione proprio di un paese che possa vedere finalmente ai primi posti tra le proprie priorità i diritti delle persone, i diritti dei più deboli, i diritti delle persone, dei giovani che devono essere in qualche modo messi nelle condizioni di poter rappresentare con tutti i mezzi le risorse di cui hanno bisogno il futuro e la crescita di questo paese. Oggi retoricamente si fa appresso sempre a dire che bisogna investire perché i giovani dei bambini sono il futuro del paese, poi a parte che si lascia senza lavoro e senza risorse, ma soprattutto non ci si rende conto che si fa un danno al paese stesso perché significa minare, ripeto, le potenzialità del nostro paese. I dati dell'Istat da questo punto di vista sono chiari, cioè le famiglie che oggi vivono in povertà hanno il 90% delle possibilità di crescere figli appunto in una situazione di povertà che daranno vita a famiglie che saranno altrettanto povere. O noi spezziamo oggi questa spirale assurda per cui il nostro paese non mette in condizione bambini e adolescenti di crescere bene e di poter fino in fondo rappresentare la risorsa quale sono, forte per un cambiamento nel nostro paese, o noi veramente ci ritroveremo non solo un paese, come si dice spesso in questi giorni di persone molto anziane, per non dire vecchi, ma soprattutto un paese che ha minato alla base bambini e adolescenti che potevano e possono e devono crescere invece in maniera sana e rappresentare da un punto di vista culturale, da un punto di vista professionale l'alternativa al momento difficile che stiamo vivendo oggi. Grazie. Grazie.